Perché nonostante la nostra vita sia già parecchio impegnativa, non credete? Perché troviamo ancora la forza, ancora la voglia di andarcene al museo? Perché entriamo a pagamento in questi luoghi dove, quando ci va anche bene, tutti marmi, affreschi, stucchi, comunque posti... Ma quando ci va male, ci tocca avere a che fare con gli architetti nord-europei, con questi designer che non si rendono conto che non possono costruire dovunque cubi di cemento armato in mezzo al nulla. Perché non tutti i paesi, non tutte le nazioni sono brutte come le loro, queste brugliere interminabili. Per cui va dato anche un senso, non mi puoi sempre mettere le scale in acciaio danese, le porte di vetro che se non metti il bollino rosso, comunque, quante persone conoscete che si sono rotte le tempie su queste porte del cazzo, dei poli museali. Perché ci tocca soprattutto frequentare i musei di arte contemporanea e dire che ci andiamo, proprio per questo motivo. Perché ci sono un sacco di cose che facciamo soltanto per poter dire e averle fatte. E allora siamo disposti a sopportare queste code interminabili di gente, sempre con queste borsine di stoffa a tracolla. Le borsine dei musei dell'arte contemporanea sono la prima cosa che ci fa sentire veramente inadeguati. Perché noi, sì, abbiamo anche noi delle borsine, ma magari ci siamo portati appresso quella del supermercato, o perché siamo usciti di fretta e magari non abbiamo fatto caso. Ma questo è un errore veramente da principianti, perché se frequenti i musei lo sai che nelle borsine di stoffa del supermercato ci puoi mettere dentro le scarpe da ginnastica, ci puoi mettere dentro la spesa, ma non mai devi andarci al museo con la cazzo di borsina della Carrefour. Teneresti alla casa con la borsina della Carrefour. Perché al museo c'è anche quest'illuminazione così in ospitale, tutto buio, a un certo punto c'è sempre la sala dove viene proiettato il documentario, sempre in lingua originale, quindi normalmente in tedesco. E tu, che magari ti manca qualche grado alla vista, ecco, ti perdi dentro a questi pannelli neri di moquette, e strisci là dentro e non riesci più ad uscire, e ti vengono a liberare le hostess a fine serata, dopo che sei stordito dal loop della docu-intervista in tedesco dei padri dell'avanguardia, che francamente... Ma quel buio, quel buio lì, che si trova proprio precisamente dentro a queste sale dei poli museali d'arte contemporanea, non credi che ben riproduca lo stesso buio della tua vita? Quel buio, quel buio che poi è il buio dell'incomprensione dell'arte. È un buio che fa riaffiorare tutte le pene, tutte le sofferenze della tua vita. Avevi soltanto pagato un biglietto, invece tutta questa introspezione. E quando pensi che sia finita, quando pensi che finalmente sarai solo lì con le opere d'arte a cercare di capirci qualcosa, ecco che arriva Sgarbi. Un minuto prima ti descrive le delicate pieghe di un marmo del Quattrocento, e un minuto dopo è seduto sulla tazza del cesso completamente nudo, che dice a te capra. A te.